Eh, chiama, il becca, il becca, ma non ho visto? Ma la tena la patente, questo? Che era vicino adesso, ma la tena la patente, questo? Come la data? Come si scappa? Ma questa la tena la patente, mi sembra la minorenne. Questa roba, la pia è una targa in movimento, giunti max. Questa è? No, lo potete? Sta scappando, sta scappando, sta scappando, bravo eco, siamo in direzione di via Ha tamponato anche una macchina in coce Siamo in direzione di via Siamo in direzione di via Siamo in direzione di via 4-4 in ciumento? Affan... Cadi, cadi, c***o è caduto Ha sbattuto contro il camion, siamo in direzione di via 4-4 in ciumento? Ma troppo veloce, non riesco a stagli dietro, una macchina Quante persone cosa? Una sola persona Bezza, chiara, azzurrina, casco nero Siamo in via Di tutto la terra Via della c***a, ha tamponato un'altra macchina Stava per cadere ma non è caduto 4-4, dove sei? Via lì? Fermati, 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 fermati Fermati, fermati, fermati 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 Fermati